Cominciamo a leggere qualche lettera di questa settimana, vai, hack. Marisa, 40 anni sciataca, praticamente sciatacata, è sciatacata una pararanni, fino a Zoppia, dicele voi. Cioè la rende praticamente quando fa ciaiai, un attimo, ciaiaiai, aiaiai, 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 aiaiai. Stavolta non è cosa giusta. Come guarire magoac e magouc? Semplicissimo, tu fare, prima di coricare, impacchi di acido sofforico e camomilla. Dopo, nel contempo, devi mangiare la sera leggera, pastanella, tante svizzero e una peracotta. In tre giorni tu sa tariare come riddo, giusto uac? Giusto, giusto, bravo, bravo, bravo. E poi adesso, per rafforzare ancora questa cosa, tu avvicinati alla televisione. Bravo. Metti la testa dentro la televisione un attimino. Va meglio? Ti sento nausea. Ti sento nausea. Allora, ci scrive pure, praticamente, Pino, dice la moglie non è soddisfatta, no, la moglie di Pino dice che non è soddisfatta da Pino. La moglie dice che non è soddisfatta da Pino. Lei dice che ci mangia assai però, Pino, e quindi lei è un pochettino triste, un pochettino diciamo, invidiosa pure delle sue amiche. Cosa dare come consiglio, Alc? Allora, potrei dire, se le hai proprio tentate tutte, oppure facciamo così. Ora, sicuramente c'è Pino pure davanti. denudalo, bravo, metterlo vicino con la parte intima, allo schermo, alla televisione. Fatto? E chiara sul passeggio. che cos'è? funziona? se funziona bene chiudite la televisione se non funziona fai passeggiata in via marina tra le 9 e poi di sera tu troverai tanta gente meglio che ti capisce e che risolve il tuo problema Laura è disturbata dalla vicina perché la vicina dice che usa musica molto alta musica musica troppo fastidiosa che consiglio dare? allora Mago H Mago Huc dice intanto proviamo pregando e contemporaneamente vai in tre chiese diverse e sparghi l'acqua prendi l'acqua Don Nunnari se prendi l'acqua di Don Nunnari basta solo kid senza tre chiese se non è Don Nunnari ci vogliono tre chiese diverse e in tre giorni dovrebbe risolversi il problema in caso se il problema non si risolve tu chiamai i vigili i vigili urbani che dovrebbero risolvere gli spiega i vigili rompi i scatoli e ai vigili se non si calma Mago Huc i vigili chiami metta cacca per uno buono in tal momento chiamandranco da quello so allora diciamo diciamo ah un ringraziamento ah chiama 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 Domenico praticò chiama e vuole sapere a che punto arriva a regina a che punto arriva a regina allora Domenico intanto caccio volessere i maghi menti 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 di che adesso così tra televisione nella tua speranza ce mi facimo come a Giovanni Paolo prima almeno Giovanni Paolo primo primo nella sua speranza ah Giovanni Paolo primo speriamo non mi facimo né come a Paolo Sesto speriamo non mi facimo come a più non per chi non serve ma io ma schianto che facimo come a benedetto Sì di Gesù o a Giovanni 24 26 i squadri sono 18 19 a Pimentro state facendo una sussina di Coglio mentre a testa è clara ringraziamento Pippa e Marcello Pippo Pippo e Marcella ci vogliono ringraziare perché grazie a Dio e grazie a noi naturalmente e ci scomparire i cufi loro ci avevano chiamato fine giugno inizio luglio e diceva avere casa piena di cufi e noi avere dato consiglio spattati fine settembre tanto ne concentrammo tanto ne concentrammo e ci ringraziano e a questo proposito vi facciamo sentire una canzone di U.S. Dori Ghezzi i cugini U.S. la cugina e i dori Ghezzi e i cugini U.S. i cugini U.S. e i cugini i dori Ghezzi appunto che si intitola Scaccioli Sti Cufi intanto vi salutano i sensitivi e i paragnosti e i cugini U.S. e i cugini U.S. naturalmente e via scaccioli Sti Cufi U.S. invece cazzo che ho praceri ho praceri ma turchi simono e hanno una sigaretta purtana allora gli astamari perché i turchi gli astimono e fumano o quando finiscono i sigaretti gli astimono ma pure quando torna la i sigaretti mi cerca mia io gli astimono e come gli astimono i quelli in turco in turco non si capisce mentre non vanno a un ferro c'è un ferro turco cosa c'è? però andiamo a un ferro turco oggi possiamo fare qualche cosa possiamo fare qualche cosa Galatasaray si chiamano Galatasaray ah Galatasaray si i Cufi c'è un ferro turco c'è un ferro turco che che mi ti ti non darei ma su mi stos pra Così sderligno tutti i gupe scaravaggio dai Ci un passo dopo e tutti i plati fruzzai E tutti rai del cestruzai Ma è che un po' forte c'è nacchai Allora ci un passai e il mio soltanto è che Solo è una forza c'è Ma sto un prodotto che passa Un sacchi soli e un cantare Ma è tutto il cacchacai E' andare in giù che vai So pure il normale Forse sai Non c'è un canente Questa umidità Paramaro Paramaro I cufe su di in tre casi Ma puru sopra i mora I giove spazisate Sarasta calze spazzatura E' andare in giù che vai Se u tanti Basta Më të schianti Se u dit di ti non basta Ta verim unui Chi non si ska rka punta Li ska t'xamboi E tu tu rrai Chi non si può fare Ma è tutto il cacchacai Ma è tutto il cacchacai E il cacchaccio Ma è tutto il cacchaccio E il risultato che So deve un po' se cacchaccio ma sto prodotto che passai un sacco di soldi e cantai ma in un bel nemmazzai e da vecchio che fai sopporo vinto ormai e tu tornai di cesto lo sai e un sacco di soldi e cantai ma in un bel nemmazzai sopporo vinto ormai quante cuffie, quante cuffie scaccia le stesse cuffie dai, ci cuffie che ruppi la tizia ci dà, piccolo spiccio, ecco grazie grazie a tutti grazie a tutti